amici del grande calcio amanti della gazzetta football league buonasera a tutti e ben collegati dal centro sportivo Carassai decima giornata MC Elite contro Ristorante Donati buonasera da Antonio Arario e Alessandro Greco grazie al maestro che insomma ha dieci mani stasera per controllare tutti i problemi è qui incredibile incredibile errore nella retroguardia di Donati e cambio di gioco improvviso ancora Donati cordialmente potrà apprezzare le gesta di Bianchi qui ancora MC Elite attraverso incredibile Budella riapertura il cross in mezzo Bianchi si vi dicevo proprio che faticano a trovare la verticalità su Bianchi i giocatori maglia bianca e qui il pallone che termina in rete non volevo dare la linea battarine però era già la seconda volta che lo interrompevo Bianchi tutto può succedere due tre avversari addirittura riesce a trovare lo spegno a colpa di testa Budel Budel calciatori coè pronto lo scambio Budel non va qui bella la conclusione di Budel melosi Budel ci prova la piazza lì dove nessuno può arrivarci due a due sul muro l'azione non è finita adesso Budel calcia col bacino hanno recuperato quelle energie mentali che servono per chiudere bene c'è un buco intanto nella retroguardia e balla bianca 3 a 2 psy elite gara che si è riaccesa monteverde zona tiro per lui prova ad andar via se la porta sul bancino monteverde monteverde 3 a 3 dopo il calcio d'angolo chiediamo il parere anche al buon battarin cross morbido ad uscire Bianchi stacca con la testa coè tanto qui pellegrini cross come al solito preciso che gol che gol che gol di fagliella un sigillo clamoroso tripletta personale per lui 20 sul cronometro della ripresa Bianchi contro Zaccuri carica il testo Rolando bianchi 4 a 4 la buttata giù l'azione prosegue con Budel bianchi Zolatino calcio col destro ancora bianchi Rolando bianchi 5 4 si chiude qui dal carassai stadium 5 4 perdonati sempre svantaggio poi al ventesimo si accende bianchi doppietta per lui le interviste del post partita sono affidate ai due bomber da una parte faiella dall'altra Rolando bianchi partiamo da te faiella abbiamo visto anche abbastanza rabbiato però una grande prestazione da qualche giornata ti stai sacrificando sulla fascia bella partita grande gol mcelit con questa prova dimostra che c'è in questo torneo sì sicuramente ci dispiace perché comunque abbiamo fatto una buona partita con una grandissima squadra siamo riusciti a tenere il campo quasi tutta la partita loro non lo scopriamo certo oggi hanno una qualità immensa fino alla fine abbiamo eravamo avanti poi sono riusciti a ribartare nella fine data così però siamo divertiti una bella partita pensiamo alla prossima sì nel finale è uscito questo campione qui Rolando bianchi ti hanno marcato bene poi ti sei allargato nel finale trovato anche più spazi hai segnato hai deciso la partita le prime sensazioni sul sull'esordio con la squadra nel torneo sì no è un bel bel torneo insomma complimenti alla squadra per sé perché ho giocato veramente bene e per me è una partita importante perché mi permette di tenermi in forma e permette di vedere sempre la porta che è sempre un piacere fare gol grazie ragazzi la linea torna a voi